C'è forse da puntualizzare una situazione che pensandoci bene si è verificata sabato perché poi chiaramente si pensa a tutto quello che è stato. Sabato magari su un'intervista pre partita di Sky mi è stato chiesto e questo mi piacerebbe non parlarne più e fondamentalmente mi è stato chiesto insomma da studio non mi ricordo chi del fatto di due anni fa delle cose di due anni fa e quindi sicuramente a partita un'ora dalla partita è tutto pensavo che la maniera migliore risolvere la situazione non fosse né di far paragoni e del fatto che comunque non c'ero io due anni fa. Allora quindi vorrei chiarire benissimo questo dove è vero che due anni fa non ero né io l'allenatore comunque ero la Pro Vercelli dove penso che questa società in questi cinque anni di proprietà di Massimo II penso ha fatto delle cose straordinarie perché ha vinto due campionati anzi tre contando anche la seconda divisione dove ha fatto due volte la serie B e sta facendo la serie B e quindi il discorso di due anni fa al paragone non mi va sicuramente non è un discorso che si può parlare e spiegare le situazioni in un 30 secondi su Sky quindi io quello che penso di due anni fa essendoci stato magari non in prima persona ma ero la Pro Vercelli è un discorso molto ampio che c'è tanto di componente secondo me sfortuna c'è tanto di componente di episodi c'è tanto di componente che ci sono stati tanti infortuni e che nel calcio a volte ti condizionano delle annate sono convinto che anche quell'anno lì è stata fatta un'ottima squadra che purtroppo quando ci sono tanti episodi che ti girano male e faccio un esempio su tutti perché le annate a volte cambiano con degli episodi noi oltre l'infortunio a tante cose noi abbiamo giocato fuori casa il primo periodo voi pensate bene che giocare fuori casa sapendo che per noi il Piola è molto importante e chiaramente è sicuramente condizionato l'annata della società ma anche dei calciatori una partita come quella del Catania se noi avessimo dovuto giocare la Piacenza in 10 sicuramente non l'avremmo vinta in casa nel nostro campo siamo riusciti a vincerla e facendo una prestazione maiuscola quindi io penso che quell'anno lì non è che sia un anno perché la storia serve per imparare che cosa che anche lì erano state fatte grandi cose e che quindi penso che ci sia molto della sfortuna e della componente degli episodi quindi non è che c'è da far paragoni positivi adesso e negativi di due anni fa questo chiaramente per risolvere tutte queste situazioni poi una cosa che da quando sono diciamo l'allenatore della Pro Vercelli non bisogna e non ho quasi mai detto perché è scontato però penso che devo ringraziare due persone che fondamentalmente non ho mai ringraziato ma non perché perché penso che poi nel calcio di scontato non c'è niente e che sono due persone che c'è ancora adesso che comunque è quella che manda avanti tutto che in questi cinque anni ha fatto grandi cose che Massimo Secondo che mi ha fidato la squadra e l'altra che comunque quello che assieme a Massimo Secondo ha fatto sì che in questi cinque anni la Pro Vercelli sia a grandi livelli penso adesso a livelli importanti che comunque è Romerone che non c'è più che penso che ha dato una struttura a una società che senza nulla togliere a chi c'era prima navigava comunque in C2 tra mille difficoltà adesso la Pro Vercelli grazie anche comunque a Romerone che ha dato un'impostazione è fondamentalmente quello che poi comunque ha fatto sì che comunque fossi anche l'allenatore quindi fino adesso speriamo ci abbia visto giusto mi sembra che perlomeno l'anno scorso sì perché il campionato è finito l'abbiamo vinto quest'anno è appena iniziato sappiamo che sarà molto dura ma abbiamo iniziato col pedia giusto quindi devo dire che oggi queste due persone sono state una è stata perché non c'è più e l'altra è l'anima diciamo della Pro Vercelli e poi chiaramente si sta proseguendo cosa non facile il lavoro comunque interpreso da Romerone con Varini perché è vero che è tutto organizzato tutto è stato fatto però poi bisogna essere bravi anche a proseguire ma perché se no le cose finiscono quindi questo proprio per evitare sempre sento anche a volte tra i tifosi il paragone rispetto a due anni fa due anni fa non è che ce lo dobbiamo dimenticare perché serve a capire che la B è lunga e dura e quindi sono passate solo sei partite e non c'è da abbassare la guardia però voglio dire era per chiarire questo insomma che forse in quei dieci secondi di Sakai non è stato recepito piuttosto che il dire una situazione del genere può far sembrare la mia situazione come una situazione che adesso ci sono io che sono bravo mentre prima c'erano gli altri che non è assolutamente anzi giusto per chiarire queste cose qua perché a volte sai quando si parla oppure i giocatori che ci sono adesso rispetto a quelli che c'era anche perché tanti che ci sono adesso qualcuno sta facendo molto bene c'era anche due anni fa ed era un po' più incredibile allora voglio dire effettivamente due anni fa hanno penalizzato tante situazioni era anche il primo anno dopo quanti anni 70 60 ecco quindi non è facile poi sicuramente infortuni squalifiche fiume con Grazie per la visione!